In fronte di me ho il PENTAX K50, che è il DSLR di PENTAX e questo è il kit con lente 18-55mm. È un camera in livello, ma ha un prisma penta opposto a un penta mirror, e anche la lente e il corpo sono water-resistant. Water-resistant, come PENTAX lo chiamano. Qui c'è il contenuto della box, quindi abbiamo il corpo, un cable USB, il CD con il software e il striper per girare, un recharger bar battery con il charger, un AC plug, e in questo caso lente, perché questo è il kit con il corpo e il lente. Questa è la box, e ora apriamo e vediamo cosa troviamo dentro. Qui troviamo la lista di tutti gli accessori da PENTAX per questa camera. Qui c'è un manual, è abbastanza grande e è anche una lingua monolanguage, quindi abbiamo tutta questa pagina per una lingua singola. Qui c'è un manual, quindi abbiamo tutta questa pagina. Qui c'è un manual per il lente, anche questo è per una lingua singola. Qui c'è un manual per lente, quindi abbiamo tutta questa pagina, quindi abbiamo tutta questa pagina. Qui c'è anche due papiere qui, che sono altre informazioni sui trattamenti, eccetera. poi qui abbiamo alcuni altri documenti e cd con il software questo è il software per capire il formato RAW di Pentex e qui abbiamo tutti gli altri documenti abbiamo il strato qui per portare la camera questo è il ovviamente puoi ajustare la lunghe questo è il charger per la batteria che non è troppo piccolo ma non è troppo grande non è troppo grande ora procedendo abbiamo la batteria quindi puoi vedere il pacchetto che è abbastanza buono e molto proteggente per le componenti poi cd connessione per connettare la camera al computer e qui abbiamo il porto standard usb da un'altra parte e mini usb da un'altra parte e qui abbiamo il cibo di poter 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 avere lo automatico qui abbiamo il cibo di poter 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 poterām da proteggere la luce, il mirror della camera è basalmente un'app plastica che puoi mettere qui ma non è lockato e questa è la camera da qui abbiamo tutti i nodi e luce per regolare le cose qui abbiamo il slot sul top per l'SD e sotto il slot per portare la camera qui abbiamo il slot per la batteria e il punto di posizione e questo slot su questo lato è per connettare la camera al PC o un video, c'è una singola parte che puoi usare per both use non ho discutito tutte le specifiche di questa camera ma solo l'unbox, lo puoi trovare online senza problemi e l'ultimo qui è la camera un bel bagno anche qui e la camera ha due coperti, una per ogni parte quindi è tutto proteggetto benissimo e anche le luce come vi ho detto prima è resistente quindi il corpo e le luce sono luogo e questo è un'acqua di potere e questo è un'acqua di potere e questo è un'acqua di potere